Ieri al Portugal Pro ha gareggiato anche Stefan Matala, mister Unshade, alla sua prima gara da pro e ha ottenuto il secondo posto. C'erano un sacco di aspettative su Stefan, dato che in questi ultimi mesi è stato l'atleta social più discusso nel mondo dei social, c'erano un sacco di aspettative su di lui, in migliaia pensavano che Stefan avrebbe vinto facilmente, che sarebbe andato all'Olimpia e che avrebbe battuto Chris Bamstead, ma per la prima parte non è ancora successa, infatti Stefan è arrivato secondo. Allora c'è un bel po' da dire su di lui, in primis, allora penso che abbia ingannato tutti i suoi social e che darà molto meglio su Instagram, ni, 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 ve lo spiego, sicuramente su Instagram si è sempre migliori perché siano sempre le giusti luci, con lo sfondo giusto e quindi si è sempre migliori sui social. Stefan qui aveva le rotondità che aveva su Instagram, ma semplicemente secondo me non era esaltato perché era abbastanza fuori condizione e l'ho visto anche parecchio flat. Infatti i suoi muscoli non scoppiavano, non erano pieni e risultava veramente molto molto spento sul palco, in più la sua condizione era così così. Lui ha una pelle abbastanza spessa, specialmente nella schiena, nei glutini femorali, però anche nel resto del corpo è abbastanza spessa e quindi toglie molta di quella definizione che fa la differenza. L'atleta che ha vinto, che è quello sulla destra, in questo momento rispetto a Stefan era un po' meno bello, specialmente sul front double bicep, però rispetto a Stefan era molto più tirato e inoltre aveva una schiena migliore. La schiena di Stefan secondo me deve migliorare perché è molto stretta, non è molto largo e necessita ancora di spessore, gli serve molto spessore nella schiena e quindi per questo secondo me ha vinto l'altro atleta perché era più definito, aveva più dettagli e aveva anche una schiena migliore. Stefan, diciamo di schiena, per quanto riguarda la definizione era così così, tra l'altro aveva una pelle scurissima e si vedeva poco dal culo in giù, la schiena era molto stretta e mancava di spessore, quindi secondo me questo è il motivo per il quale ha vinto l'altro atleta. Poi terzo è arrivato l'altro atleta di colore, quello tutto a sinistra che onestamente a me non è piaciuto per niente, secondo me è parecchio bruttino perché ha le clavicole enormi, il busto corto e le gambe lunghissime, sembra quasi un ranocchio, non mi piace per niente. E onestamente non so come cavolo ha fatto ad arrivare terzo, io l'avrei messo molto più in basso se devo essere onesto. Comunque però per Stefan secondo me questa è stata una prep dura, sicuramente ha avuto un sacco di problemi a rientrare nel peso limite, che per lui mi pare di aver capito che è 91 kg, sicuramente ha avuto un sacco di problemi con la preparazione e quindi il suo fisico si è veramente svuotato e sul palco non è riuscito a esprimere il suo velo potenziale. Diciamo che ha un buon fisico, delle bellissime forme, però non è uno che mi fa pensare wow questo qua nei prossimi anni batterà Bumstead, no. Secondo me è uno che fa al massimo poter centrare la top 10 e resterà nei top 10, però di battere Bumstead e di entrare in top 5 onestamente la vedo abbastanza dura se non impossibile. Quindi diciamo che ha un po' deluso per la forma che ha portato e anche perché ha un po' battuto l'hype che c'era. Su Instagram si è sempre molto meglio rispetto che su un palco dove non hai nessun filtro, nessuna luce perfetta, ma sei solo nudo con un po' di colore addosso. Comunque poi a questa gara c'era anche l'Elericotti che è arrivato sesto, risultato secondo me molto buono considerando tutta la stagione che ha avuto fino adesso, i problemi che ha avuto, l'infortunio, le difficoltà a entrare nel peso e la forma che non usciva, quindi in tutto sommato secondo me questo sesto posto è molto buono per lui. E penso che a questo punto la sua stagione sia terminata e al prossimo anno passerà ad una nuova categoria però questo ve lo racconterà lui, ora ci metteremo d'accordo per fare una bella chiacchierata per voi su YouTube. Comunque tornando su Stefan, allora ora molto probabilmente secondo me farà la prossima gara in Europa Classic Isic che sarà il big man in Spagna tra un mesetto ad agosto. Deve assolutamente arrivare più tirato, la pelle deve essere molto più fine, però penso che sia anche molto dura perché geneticamente lui si vede che ha una pelle molto spessa, quindi deve arrivare più definito e deve anche arrivare più pieno. Così magari potrebbe qualificarsi l'Olimpia e ottenere una bella posizione magari a ridosso della top 10. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa prestazione di Stefan Matala, Mr. Unchained se vi ha convinto o no, fatemelo sapere. Vi chiedo il like appunto come al solito e ci vediamo al nuovo video. Grazie a tutti.